Conosciamo meglio un'altra squadra del settore giovanile Amaranto, quella dei giovanissimi. Partiamo dall'inizio di campionato perché dopo un mese, poco più di lavoro, comunque sono già arrivati buoni risultati. Sì, più che risultati parlerei di prestazioni perché il risultato è importante per il morale, soprattutto i ragazzi quando riescono a ottenere queste vittorie come domenica riesci senz'altro ad allenarti in maniera più positiva. Però noi dobbiamo essere bravi a guardare le prestazioni. Veniamo sia domenica che domenica scorsa a Lucca, i ragazzi in campo si sono comportati veramente bene. Veniamo da due prestazioni importanti, sia sotto l'aspetto tecnico ma anche della personalità. L'obiettivo per questo gruppo che ha iniziato a lavorare, come abbiamo detto, un mese, poco più fa, è quello di plasmare i giocatori, è quello di ben figurare in questo campionato. Quali obiettivi voi siete prefissati? Il nostro obiettivo che ci siamo prefissati è quello di cercare di migliorare questi ragazzi. Di già in un mese siamo riusciti a ottenere delle buone prestazioni, sia nei tornei iniziali che nell'inizio del campionato. Ma soprattutto abbiamo ottenuto, secondo me, una grossa vittoria, che è quella che inizialmente i ragazzi venivano da un percorso diverso. Solamente quattro ragazzi facevano parte del gruppo dei giovanissimi della stagione scorsa. Quindi ecco, altri 17 ragazzi sono stati aggregati a questo gruppo e io sono veramente contento che in poco tempo sia formato un gruppo molto importante e questo ci permette di lavorare in maniera positiva. Grazie a tutti.